perché tu volevi anche lì innovare e creare delle situazioni. Scusatemi, mio figlio Edoardo, dimmi Edo, e ti avevo chiamato, ma io sono in conferenza, tu mi hai scritto che non potevi venire. E ho capito, amore, vabbè, poi me lo racconti perché adesso sono in conferenza e quindi non posso... Ok, va bene, amore, ho capito. Domani poi ne parliamo, amore. Ok? Ciao. Non era preparata, è un spaccato di vita vera. Innanzitutto, scusatemi, faccio un passo indietro, faccio un rewind, perché noi dobbiamo anche esprimere la nostra vicinanza per i disastri che ha subito l'Emilia Romagna, che hanno subito le popolazioni tra i Ravennate e la zona sottostante. Io questa mattina vedevo, mentre facevo ginnastica, c'erano i vari TG che mandavano delle immagini.